benvenuti ai 25 millilitri sono claudia perretti communications manager dell'istituto espresso italiano oggi parleremo dell'evoluzione dell'espresso come sempre con degli ospiti e oggi anche con una compagna di viaggio una co conduttrice una una personalità che è barbara chiassai ceo di iei e con noi ci sarà l'intervistato della giornata che è luigi dello presidente del comitato scientifico dell'istituto espresso italiano diamo subito il benvenuto a barbara ea luigi buongiorno buongiorno una una giornata proprio in iei nell'istituto espresso italiano per parlare dell'evoluzione dell'espresso italiano tema che vorremmo approfondire poi anche con successive puntate approfondimenti e personalità che appunto riescano a indicarci quello che il percorso e la via e il sogno del futuro per l'espresso italiano benvenuta barbara grazie claudia è un piacere avervi con me benvenuto luigi grazie barbara raccontaci un po dai approfondiamo subito entriamo subito nel vivo del tema insieme a luigi ovviamente noi ci conosciamo all'interno di ei quindi abbiamo vissuto un po tutti insieme è quella che è appunto l'evoluzione dell'espresso grazie claudia di questa opportunità perché mi dai la possibilità di fare qualche domanda luigi che in realtà facendo così mente locale non ho mai fatto nel corso della ormai da tanti anni insomma la la conoscenza che ho con luigi quindi insomma approfitto se possiamo già iniziare entrare nel vivo claudia mi dai l'ok vorrei dire insomma luigi luigi lo sa benissimo però la mia storia nell'espresso inizia un maggio di tanti anni fa quando per la prima volta mi sono seduta in in un'aula per ascoltare tecnicamente una storia dell'espresso un po diversa da quella che avevo ero riuscita bene o male a sentire in azienda molto tecnica si parlava di analisi sensoriale per me era la prima volta la mia patente è la patente numero 500 oggi se correggimi se sbaglio luigi siamo oltre le diecimila patenti di assaggiatore quindi diciamo che la storia dell'espresso ha fatto un po di strada in questo periodo qua però come io la patente numero 500 ti ho conosciuto in quel momento per me eri già un luminare nel mondo dell'espresso non ti ho mai chiesto in realtà e non lo so proprio da dove inizia la tua storia nell'espresso come è cominciata se per caso come può capitare a diverse personalità oppure magari l'hai proprio voluta quindi questa è la mia prima domanda e la mia prima curiosità inizia nel migliore dei modi inizia attraverso diciamo così uno che ama molto il caffè e forse perché ne aveva sempre avuto molto bisogno per studiare per stare sveglio per studiare ero un po indisciplinato un po discolo quando studiavo e sostanzialmente di caffè non sapevo assolutamente nulla nel 1990 nasce centro studi assaggiatori con l'idea di mettere a punto dei nuovi metodi di analisi sensoriali che non fossero quelli americani che venivano osteggiati dalla nostra cultura in quanto riduzionisti e via discorrendo noi siamo molto più poetici eccetera e nel 1992 inizia la nostra storia col caffè proprio facendo un gruppo di studio per mettere a punto un metodo di assaggio del caffè a quei tempi sostanzialmente l'analisi sensoriale del caffè era più che altro rappresentata dalla degustazione di classificazione che si faceva nei paesi produttori a quei tempi avevamo qualcosa nella bibliografia del lico che aveva utilizzato dei sommelier francesi qualcosa nella bibliografia di asic ma molto molto e quindi bisognava studiare tutto studiare tutto voleva dire sapere metodi di analisi sensoriali e lì qualcosa sapevamo perché eravamo specialisti nel settore ma anche sapere qualcosa di caffè per cui ecco che comincia questo rapporto sostanzialmente con la ricerca di tutto quello che riguardava il caffè e mettere a punto qualcosa di nuovo voleva dire in qualche modo approcciare quella preparazione di caffè che aveva i numeri più grandi perché è chiaro che quando la sensibilità è bassa se il numero è grande si riesce comunque a percepire qualcosa dunque noi siamo arrivati all'espresso non solo perché eravamo e siamo italiani ma siamo arrivati all'espresso perché l'espresso tra tutte le preparazioni è quella che offre la maggiore percezione in assoluto che mette maggiormente in evidenza sia i pregi sia i difetti quindi la nostra storia sostanzialmente comincia così avevamo bisogno di espresso per mettere appunto un metodo poi logicamente ecco tu hai la patente numero 500 io la numero 3 comunque non 1 però la cosa che è stata molto bella è stata un viaggio in un mondo che ci ha apprezzato in un mondo sconosciuto quindi tante relazioni tanta gente tanta gente che arrivava ai corsi oggi guardando le foto dell'epoca si vedono quelli che sono i grandi dirigenti delle aziende di oggi e fa piacere addirittura ce n'è uno proprio alla caneo dove l'hai fatto anche tu tra l'altro il corso dove ci troviamo gli schierati qualcosa come oggi 120 130 milioni di fatturato di oggi di milioni di euro di fatturato io stessa ero vicino l'importantissimo torrefattore del sud proprio a fianco a me e qui immaginavo la cosa bella che ancora prima diciamo così dell'avvento prepotente del web si crea una nuova comunità nel caffè e questo ha permesso logicamente da una parte di fare delle ricerche perché dei torrefattori costruttori di macchine ci hanno seguito nella metodologia ci hanno sopportato finanziariamente perché se no non si poteva fare niente di questo ma anche nella convinzione di sapere poco e quindi accettavano bene di fare delle ricerche io mi ricordo ancora quando abbiamo fatto il test a londra tanto per intenderci allora se per i londinesi l'espresso era un qualcosa normalmente di malfatto però dall'altra parte quasi disconosciuto noi non avevamo proprio idea di quali fossero i loro gusti tutta questa ricerca poi confluita nel 1998 quando è nato l'inei e l'inei è stato poi quello che ha portato avanti la bandiera di questi studi di queste ricerche fatte sull'espresso ma come erano i gusti e accennato i gusti londinesi come erano i gusti quando nel periodo in cui ti sei avvicinato all'espresso com'era la cultura dell'espresso quali le modalità di consumo allora una cosa che poi si è è trascinata nel futuro quindi fino ai tempi nostri sostanzialmente l'espresso era un consumo disattento non c'era nell'ambito dell'espresso la fioritura che facevamo già sul vino quando lo descrivevamo andando a cercare determinate cose eccetera io mi ricordo che proprio con dei torrefattori che poi ho stimato tantissimo il massimo che riuscivano a dirti di un caffè di un espresso per esempio quando aveva della una percezione retroalfattiva poco poco nobile che era sporco dei termini che si utilizzavano quindi in quel in quell'ambito sul mercato c'era di tutto e di più c'era di tutto di più c'era anche meno concentrazione da un certo punto di vista del giorno d'oggi questo e costituiva sicuramente era intrigante se tu potevi veramente fare delle esperienze oggi posso dire una cosa che molte di queste esperienze erano negative cioè il caffè che si beveva effettivamente c'è il consumo invece di essere disattento fosse stato attento con ogni probabilità i consumi di caffè sarebbero scesi molto ora qual è la gemma che c'è alla base di tutto questo e che è venuta poi fuori questa diversificazione dove le aziende che hanno fatto qualità in qualche modo proprio grazie a iei si sono confermate in questa qualità che era quella originata da più di 3.000 test sui consumatori dove avevamo capito quale doveva essere il profilo di conformità dell'espresso che piaceva e altre addirittura sono andate sul versante opposto cioè dove la qualità non interessa per niente utilizzo delle altre leve del marketing del commerciali tanto per intenderci e finisce di ma la cosa la prima cosa e questa è stata basi dare e che sostanzialmente iei è stato il primo a puntare sulla formazione acquisendo sostanzialmente i programmi dello IAC ma utilizzando la sensorialità andando a innestare tutta la formazione dei baristi io ti do riprova di questo luigi scusa ti interrompo perché quello che tu dici trova veramente una parte oggettivamente probabile per esempio nella nostra azienda in s caffè ci siamo obbligatoriamente diciamo così dati il l'obiettivo di formarci tutti quanti e veramente la cosa tu hai fatto la domanda come era la cultura noi abbiamo fatto un passo da gigante nella cultura della nostra azienda quindi vuol dire nella cultura dei nostri uomini che hanno poi portato fuori ai baristi e poi ai consumatori perché semplicemente abbiamo dato una abbiamo fatto una semantica comune di che cosa significavano determinate cose nell'espresso quindi lo sporco che tu dici non lo usiamo più ma è vero che era una terminologia utilizzata è un passo di cultura molto importante che tutte le torrefazioni dal mio punto di vista hanno fatto quelle che hanno potuto privilegiarsi di entrare a far parte dell'istituto nazionale espresso italiano perché perché abbiamo veramente aiutato a creare nella cultura io ricordo fin dall'inizio quando venivo con il nostro presidente alle prime riunioni dell'inei che guardavamo tu mi facevi sempre fare l'esempio di che cosa stava facendo il vino in quel momento e tu dicevi dobbiamo arrivare lì dobbiamo avere tutti quanti un linguaggio non possiamo descrivere un caffè guardando solo la crema buono cattivo mi piace non mi piace dobbiamo ampliare dobbiamo essere dobbiamo veramente creare un albero degli aromi come lo abbiamo poi creato perché ci sono tantissime terminologie che devono diventare di lessico comune non più tardi di qualche giorno fa una persona al bar mi ha stupito perché è riuscito a dire floreale di un caffè io da un consumatore non l'avevo mai sentito era una signora anche di una certa età mi ha detto floreale perché ha detto oi mi sembra di sentire dei fiori dentro a questo caffè cioè mi sono girato detto è una candid camera no magari sanno che mi aspettavo qualcosa no cioè dire floreale di un caffè da parte di un consumatore è un enorme traguardo poi purtroppo non so bene mi sarebbe piaciuto intervistare questa persona però si è fatto un passo avanti importantissimo claudia nella cultura dell'espresso noi l'abbiamo fatto all'interno dell'azienda ma l'abbiamo portato fuori l'abbiamo portato nei baristi anche i baristi dobbiamo riconoscerli che hanno fatto un passo enorme cioè anche se ci chiedono sempre il prezzo che è quello che determina alla fine quando puoi vendere una miscela però insomma qualcuno e più di uno per fortuna si spinge oltre nel richiedere che cosa vuole la qualità del proprio caffè nel proprio bar insomma ecco ma visto che l'hai tirato in ballo va bene faccio un'anticipazione così tanto per dire qualcosa di nuovo perché se no stiamo preparando white paper proprio sull'albero degli aromi proprio per mettere insieme tutta una parte di ricerca che abbiamo fatto che riguarderà proprio la correlazione che c'è tra le molecole che generano la roma e la roma stesso e quindi dando dunque la possibilità poi a tutte le torrefazioni di decifrare di avere una chiave quanto sentono qualcosa che cosa può essere dovuto questo e quindi andare a ricercare nel ciclo di produzione a da che cosa potrebbe derivare questo consentirà secondo me una nuova spinta verso il miglioramento della qualità perché è logico che la ricerca la cultura danno una spinta non c'è niente da fare altrimenti ci rimescoliamo sempre le stesse cose che può darsi che la minestra sia più o meno fredda più o meno calda però rimaniamo sempre in quell'ambito di e questo sarà in distribuzione io spero già a partire da questa metà mese naturalmente utilizzando anche il web questi sistemi farà discutere quasi sicuramente però penso anche che dia una nuova spinta al perfezionamento io ricordo che ci sta seguendo in questo momento che abbia iniziato a seguirci ora che stiamo parlando dell'evoluzione dell'espresso con lui giudello che è presidente del comitato scientifico iei e barbara chiassai che c'è iei che mia co conduttrice della giornata oggi finalmente non sono sola nella condizione quando vuoi perché mi piace dipende dipende sempre dall'ospite ragione e abbia vorrei un attimo fare le belle fila di quello che abbiamo visto finora perché è bello vedere come prima è stato descritto è un mondo dell'espresso in cui sei entrato luigi nel momento in cui ti sei avvicinato tu personalmente all'espresso vi erano metodologie di assaggio non proprie dell'espresso un mondo culturale caratterizzato spesso appunto anche dalla della fredda da modalità di consumo più leggere mettiamo e ora nel nell'evoluzione di questa chiacchierata stiamo parlando di ricerche di molecole di chimica di di progetti di diffusione della cultura e di approfondimento proprio scientifico c'è già in un quarto d'ora si vedono grandissimi cambiamenti tra un inizio meno il momento in cui ti sei avvicinato non l'inizio storico dell'espresso ma dal momento in cui ti sei avvicinato a oggi davvero cambiamenti sostanziali quindi come definiresti l'espresso italiano oggi e dove siamo ora quali sono le dinamiche principali che stiamo osservando abbiamo parlato anche di formazione stanno già emergendo numerosi temi si ritorno al discorso della forbice che si è divaricata nel tempo oggi vorrei dire che effettivamente abbiamo come diceva barbara una classe di baristi impensabile 25 anni fa non era pensabile oggi abbiamo veramente una fascia di baristi molto molto bravi anche perché ci tengono al loro lavoro quindi sono molto più ricettivi verso quello che noi possiamo dire dall'altra parte ci troviamo con una popolazione con un consumatore che è molto più attento di una volta anche se non sa ancora discriminare più di tanto però vi faccio un esempio certe iniziative una volta non erano pensabili io stasera farò una trasmissione per conto dell'università di torino che fa una trasmissione per i consumatori e si chiama le degustazioni sul divano e alle sette di sera assaggiamo caffè 25 anni fa non c'era nessuno che avrebbe pensato una cosa del genere perché mancava la cultura ma mancava anche la possibilità di trovare la materia prima per andare a discutere di determinate cose quindi voglio dire oggi siamo siamo meglio rispetto al passato ma c'è l'altra punta della forbice effettivamente un ancora una notevole una grande fascia di caffè che è da recuperare che valorizzare perché chiaramente non più consona quasi quasi vorrei dire a chiamarsi caffè non più non consona sicuramente a chiamarsi espresso italiano qui c'è qualcosa da dire cioè nel senso che l'espresso italiano è comunque rimane comunque la preparazione in assoluto più difficile l'errore che uno può fare utilizzando tanto per intenderci facendo un filtro è un errore che si vede soprattutto se noi siamo di fronte al preparatore nell'espresso è un errore che si trasferisce alla tazzina in un modo eclatante luigi tutto quello che tu stai dicendo verte intorno a un tema che era vero allora come lo è adesso che è quello della formazione sempre e soltanto formazione formazione al barista formazione ai consumatori noi arriviamo ai baristi cercando di dare la possibilità ai baristi di parlare in maniera diversa del proprio caffè e devo dire la verità se mi giro indietro di strada ne è stata fatta cioè ognuno soprattutto le aziende dello iei che attivamente sono tante hanno portato avanti questo continuano a farlo perché senza la formazione puoi fare tutte le cose che vuoi ma fra virgolette il trasferimento di tutte queste cose rimarrebbero un pochino fini a se stesse quindi la formazione dal mio punto di vista mi piacerebbe sapere che cosa pensi tu rimane centrale per noi centrale da inizio alla fine quindi parlo di formazione quando parliamo della formazione interna all'azienda nella conoscenza dei crudi che va acquistare quindi nella modalità con cui tosta il caffè e nella formazione in particolare di far capire ai baristi che quando comprano un chilo di caffè è un semi lavorato quindi c'è ancora un lavoro da fare che è nelle loro mani lo diciamo sempre cioè qualche barista ancora forse non lo sa quindi il ruolo della formazione rimane per me un tema importantissimo quindi non so che cosa pensi tu però forse ci troviamo noi bene pensiamo ovviamente bene prima di tutto perché il nostro lavoro quindi nel momento in cui non lo facciamo più non mangiamo più e questa è una cosa basilare ma no te le penso bene anche per un'altra cosa allora intanto il trasferimento della conoscenza è possibile quando logicamente c'è una buona trasmittente ma dall'altra parte c'è una buona ricevente altrimenti la conoscenza ferma no da questo punto di vista abbiamo lanciato e stiamo perfezionando i corsi da super tester con un briciolo di polemica cioè si chiama super tester non nel senso che noi andiamo contare le papille gustative chi ne ha di più la densità delle papille gustative come fanno gli americani ma super tester sono quelli che hanno innanzitutto un cervello aperto alla percezione e quindi ecco che qua nell'ambito della conoscenza ha un qualcosa di specificatamente sensoriale tecnico dovremmo affiancargli un qualcosa di psicologico che dovrebbe aumentare anche la motivazione faccio un esempio prendiamo i baristi allora sarà arrivato il momento in cui un barista quando mi offre il caffè mi dice tre parole non non voglio che mi faccia una lezione perché sono lì a prendere un caffè ma tre parole su quel caffè me la vuole dire allora se io parto dal presupposto di utilizzarmi tanto per intenderci docenti di scrittura moderna psicologi stiamo lavorando sulla psicosintesi che è una cosa che secondo me si addice molto al nostro settore e lavoriamo sui mezzi di comunicazione perché poi chiaramente questa gente deve comunicare ma perché deve comunicare anche per avere una propria gratificazione ma anche le tre parole in più che sapranno dire quando servono il caffè gli daranno uno status superiore una motivazione superiore oppure no cioè smetteranno tanto per intenderci di sentirsi dei camerieri e non voglio assolutamente offendere i camerieri e ma cameriere nel senso di un qualcuno che poggia qualcosa per sentirsi finalmente un artista che sa lavorare che sa fare un professionista che sa fare bene il suo lavoro e riesce anche in qualche modo a trasmettere quello che ha fatto se andiamo a vedere i maestri della cucina un grande maestro del cucino lo cito penso di poterlo citare perché non c'è più Gualtiero Marchesi no Gualtiero Marchesi mi diceva il grande cuoco lavora dalle otto a mezzogiorno in cucina e da mezzogiorno alle tre del pomeriggio finché si alza l'ultimo ospite in sala allora è chiaro lo chef fa un altro mestiere però perché il barista non mi piega occorrono 25 secondi per fare un espresso ne mettiamo cinque in più di secondi per andare a dire qualcosa di quello che mi sta servendo è bello c non solo buongiorno un euro e dieci grazie ci vediamo la prossima non queste tre parole qui giustamente che sono le classiche che anche semplicemente qualche volta le è piaciuto il caffè cioè che uno possa iniziare una conversazione possa dare l'assimo tu prova a pensare le servo vi servo una miscela che ha e gli dice le tre le cinque le sette monorigini che ci sono in quella miscela voglio dire in quel momento lì l'altro lo percepisce sicuramente di più se poi gli piace si fedelizza anche ma sicuramente sarà un gesto di riguardo che porterà di nuovo quel cliente in quel bar assolutamente sono percorsi che vediamo avviati anche all'interno di altre merceologie per cui con grande successo quindi non sono teorie ma sono effettive vi è un riscontro pratico e anche economico poi in questo legandomi a a questo percorso qual è il futuro che sogni per l'espresso italiano luigi ma il futuro che sogno e che diventi davvero l'ambassiatore non solo più per titolo perché per titolo lo è ma per la frequenza di consumo in giro nel mondo io dico sempre e non per disperciare le altre preparazioni perché poi come istituto internazionale assaggiatore caffè per noi tutte le preparazioni hanno pari dignità ma se noi prendiamo e torno al discorso del filtro di prima ci facciamo un 200 millilitri di roba che dobbiamo portarci in giro sul metro magari spandendolo addosso agli altri e via discorrendo per continuare a sentire scusatemi lo uso impropriamente il gusto del caffè ma se io mi prendo un espresso eccellente io l'aroma del caffè ce lo invoca per 45 minuti senza portarmi dietro mezzo litro di caffè allora io voglio dire è un fatto di cultura c'è un bisogno di volumi tutto quello che volete ma se è vero che ed è questo è perlomeno c'è dalla ricerca intorno che il caffè è uno degli aromi più graditi al mondo e che quindi la gratificazione mi arriva da quello perché l'espresso italiano non può essere un buon sistema nel mondo per avere la bocca buona quindi il futuro che si sogna è un espresso italiano come stimolo e vettore di benessere e di piacere nel mondo perché poi alla fine lo ha lo è lo è già solo che va raccontato in una maniera diversa e molto probabilmente ci saranno narratori il sogno è quello di avere proprio dei baristi narratori nel bar che faranno innamorare il consumatore ci c'è la fila semplicemente per fuori questo è il mio sogno la fila fuori per ascoltare quel barista che ti racconta quel caffè allora il caffè non diventa solo uno scontrino diventa quasi una una cosa non voglio dire l'Italia perché non deve essere l'Italia però che tutti al quale tutti possono accedere quasi fra virgolette a poco prezzo perché voglio dire una bevanda anche molto economica però con il giusto rispetto il giusto valore diventa una diventerà una bevanda economica perché no però che narra da sola qualche cosa e forse a me è capitato a me è capitato che non facevano la fila per entrare in quel bar facevano la fila e in effetti l'ho fatta anch'io perché volevo vedere il fenomeno che ci stava dall'altra parte e voglio dire giù era un fenomeno da noi probabilmente ce ne sono tanti così sono proprio la frequenza del consumo che manca dell'espresso nel mondo ma soprattutto io sto parlando dell'espresso italiano perché quando parliamo di espresso parliamo di un caffè che viene fatto al momento sostanzialmente con l'uso di quando parliamo di espresso italiano i canoni cambiano e spesso una lancia a favore di molti dei baristi professionisti che seguono questa rubrica i 25 millilitri che sono effettivamente persone e professionisti che ogni giorno lavorano per fare quello di cui stiamo parlando perché fortunatamente il presente il futuro già a questa a questa linea tracciata in queste persone che veramente si formano studiano lavorano ogni giorno e riescono a portare al consumatore finale al cliente alla persona che gusta la tazzina di espresso italiano quella che è la passione lavoro e la ricerca di tutta una lunga filiera perché poi è questo che emerge sempre il mondo dell'espresso è cambiato ci sono persino ricercatori che studiano e correlano senso a dati sensoriali a dati chimici molecole poi uniti all'ingegneristica per fare le macchine per espresso le tostatrici e massi di tostatori tutto questo poi viene valorizzato da questi professionisti che già ci sono e che danno appunto vita alla nostra tazzina di espresso italiano è veramente un piacere parlare parlare con voi la nostra rubrica ha questi tempi brevi ma questo ci offre occasione anche di replicare eventualmente ma intensi sono brevi ma intensi come un espresso quindi va benissimo claudio grazie barbara quindi io vi ringrazio moltissimo se volete fare un ultimo saluto a chi ci ascolta e ci vede saluto a tutti e grazie a te io ringrazio claudia e ringrazio Luigi di aver avuto questa possibilità mi piace molto parlare dell'espresso così in maniera amichevole ma professionale è sempre un modo bello per noi che lavoriamo dentro al caffè perché ce l'abbiamo un pochino dentro un po la passione e poterne sempre parlare è sempre bello divulgare alla fine la divulgazione è sempre l'arma migliore insomma per chi vuole seguire un percorso di qualità il problema maggiore è che stiamo ormai parlando di storia barbara no per te assolutamente non è per me questo io inizio adesso la storia non ti preoccupare grazie ciao a tutti